Oggi sono filmati, quindi non posso sgarrare, diciamo. Allora, oggi guarderemo il plugin di Quaepanet, che è un plugin di QGIS. Mi sentite? Anche là in fondo? Mi sente? È un plugin di QGIS, che praticamente sviluppa le stesse funzioni di Quaepanet in QGIS. Quindi riusciamo a fare delle reti di acquedotto georeferenti a APE. Le slide che vi propongo oggi sono liberamente presi da chi ha sviluppato il plugin, ovvero Andrame a Pace, ed è stato aiutato anche da Dania Ligerola e Gela. Devo ancora caricare le slide, però vi ho caricato il manuale utenti di Quaepanet direttamente, perché ogni funzione legata a Swarm si riferisce a elementi direttamente sviluppati da Swarm, così anche in QAepanet si viene rimandata agli schessi elementi sviluppati e spiegati in Aepanet. Quindi, non so, per esempio, nei nodi se avete dei dubbi per quanto riguarda alcuni altri dubbi dei nodi o delle condotte, il manuale di Aepanet vi può essere utile. Quindi, che cos'è? È Panet che innanzitutto partiamo prima un passo indietro. È un programma che simula a lungo periodo il funzionamento idraulico e la qualità dell'acqua, che a voi non interessa nel nostro specifico caso, cioè nella vostra esercitazione non andrete a simulare il comportamento dei contaminanti nell'acqua, nelle reti di distribuzione, allora, è l'alberto di Aepanet. È open source ed è distribuito come fuono dell'EPA. Le output sono a portata, a missione, a testa d'acqua per ogni seri probatori e la concentrazione dei contaminanti. Quindi come funziona? Voi gli dati in input il layout della rete, quindi disegnate voi la rete e la predimensionate. Proprietà degli elementi, predimensionamento, regole di gestione, quindi dell'analisi, scegliete un po' voi come funziona questa rete, e le opzioni di analisi, ovvero cosa volete andare a vedere nei risultati. Quindi, la simulazione, penso che il prof vi abbia spiegato come andrete, cioè il metodo del gradiente, oppure, ah no, l'ho insegnato quell'altro, dalle slide ha insegnato un altro metodo, però, qui viene sviluppato il metodo del gradiente, non so, vorrei spiegarlo la prossima volta, no, l'altra, e poi vi dà vari output per la verifica e il funzionamento di questa rete, tirante dei nodi, portata dei nodi, il livello dell'alto dei sabatoi, ci stiamo facendo. Invece QEpanet, come vi dicevo prima, è un plugin sviluppato per QGIS, che vi permette di direttore per iniziare la vostra rete di prodotto. Attenzione, è ancora in fase di sviluppo, quindi, avrete un sacco di bag. non spaventatevi, potete segnalarli, Andres ci sta ancora lavorando, molto probabilmente se non lui, chi per lui, quindi segnalateli e nessuna paura, provate e riprovate, insomma. I risultati si otterranno, faticando non si otterranno. Quindi, come ho già detto, ripeto, per mettere la comunicazione tra QGIS e Epanet, non avete preferenziato, dovete disegnare la rete e analizzare i risultati, come è Epanet. La struttura, le operazioni e le capacità sono simili a quelle di Epanet, in più a, va bene, la capacità di darvi la lunghezza delle condotte in 3D, perché su QGIS e su Epanet voi disegnate direttamente la proiezione. In 3D vuol dire che lui considera anche l'andamento del terreno, quindi la pendenza delle condotte. si struttura praticamente nella stessa maniera di Epanet, con alcune cose che sono ancora in fase di sviluppo, quindi non sono ancora implementate, che però a voi ancora non mi interessa non è ancora l'esercitazione in questione. Come è strutturato? Contiene oggetti fisici, i layers, che sono i collegamenti, quindi le condotte, le pompe, le vanbole, i nodi, le junctions, quindi i nodi direttamente, i serbatoi e le sorgenti. e poi gli elementi non fisici. Per quanto riguarda QEpanet, appunto, avete degli andamenti e delle curve che andrete a mettere in pasto. Inoltre, con QEpanet, rispetto a Epanet la creazione dei nodi è più veloce e più immediata. Il livello di zoom va bene, di alto, complucissimo, come avete già sperimentato con la rete di coniatura. Ripeto, la rete è fortunatamente georeferenziata, abbastamente con il sistema di riferimento giusto per altro elemento. Vi caricola direttamente le quote di terreno, le aggiorna direttamente a carassi di terreno o il DM che voi usate, senza andare, per esempio, a fare tutta la procedura che avete fatto con la cognatura. Lui lo fa in automatico. La lunghezza del condotto che l'ho già detto tagliata in 3D, si può assegnare materiale delle condotte per associare il proprio coefficiente di scabrezza, come su suono, come l'avete fatto per suono. Quindi iniziamo a installare un'acqua di Q&A e con il Q&A, andate in plugin. Anche se spiegazione, installate in plugin, andate in settings direttamente. allora abbiamo controllato ieri Daniele è riuscito a fare a precarlo anche in tutta di facoltà quindi si carica sia nel vostro sia in quello di facoltà a voi dovrebbe mancare questo qui giusto? allora si vede? no? allora se voi andate su settings ci dovrebbe essere QGIS official plugin repository repository plugin ufficiale QGIS poi fatemi vedere cosa avete voi va bene quello che vi manca è quello associato a QEBANET allora provate a cliccare AND in basso a destra vi faccio vedere poi nelle slide adesso provate a vedere senza mettere tutto l'url direttamente a cliccare sul nome QEBANET underscore repository provate a mettere quello e su qrl htpp 2.t slash slash e si potrebbe scrivere la macchina si ma qui in fondo non è che parliamo di allora ingrandisco questa vediamo se se sarà faccio un informe direttamente su testa potete poche potete leggere? mettete solamente quello dopo i due punti e prima della freccia mi raccomando e si fa ok vedete se lo trova allora proviamo così in URL adesso ve l'ho detto un URL mettete http due punti slash slash www.adl.cloud slash UGIS underscore repo underscore unitn slash repository con la y finale punto xml punto di domanda UGIS uguale 2.14 allora non so se funziona per la versione 2.18 ma la versione 2.14 è la versione più stabile un nome un nome e un QR ma niente un nome ripeto direi più nuovo l'URL per chi non l'ha sentito HTT ve l'ha già aggiunto quindi riuscite a vedere un'icona del genere nella vostra toolbar o è a destra o a sinistra insomma non so dove l'ha già aggiunta se no andate a vedere provate a installare il plugin se no ve l'ha già installato quindi andate su wall e cercate Evanet e fate installa e dovrete comparirvi l'iconcina bene installate il plugin voi vi rinnovete sulla schermata nel QGIS cliccate sull'icona a destra adesso vi compariono una serie di finestre di dialogo però a quella destra vi compare tutta una serie di strumenti di pulsanti che sono tutte le funzioni di Evanet praticamente voi potete cercare un nuovo progetto aprirne uno già salvato in precedenza salvare quello su cui state lavorando salvare quello su cui state lavorando con un altro nome poi qui avete tutti i pulsantini per la creazione di nodi serbatoi sorgenti adesso adesso se cliccate l'icona vi compariono una serie di finestre di dialogo adesso già arriviamo la creazione di ponte valvole potete andare a scoprire gli elementi o cancellarli e poi vi darò una serie di tools per quanto riguarda i layers le proprietà dei vari elementi le opzioni di analisi e alcuni tools quindi come ho già accennato sopra avete i comandi per creare aprire e salvare un progetto dopo li riguardiamo se avete i comandi per creare nuove o cancellare elementi quota dei nodi avete pure la quota cioè per ogni nodo quando voi cliccate sopra avete effettivamente la quota che lui si ricava direttamente dal BPM sezione dei layers sezione dove fissare le proprietà degli elementi prima di disegnare sezione di controllo dell'analisi di QEPANET creazione di andamenti curve e definizione dell'atteleranza dello snap che può essere utile per disegnare la rete come facciate con SWOM lanciare la simulazione e visualizzare gli output queste sono tutte le finestre di dialogo che ho avuto appena accennato le fasi operative sono aprire e poi l'abbiamo più o meno fatto aprire e creare un progetto che ora ci mettiamo a farlo aggiungere mappe di PM ODM e la CTR merito CPP quindi la carta tecnica pronunciare che avete già sono quelle che avete anche sul link di Drive definire le azioni per l'analisi del funzionamento idraulico disegnare la rete assegnare e modificare le proprietà degli elementi della rete selezionare le azioni di analisi analizzare il funzionamento idraulico e visualizzazione dei risultati quindi ora se voi cliccate sopra l'icona di Webnet vi compare questa finestra di dialogo qui in cui o potete aprire un nuovo link file perché come suon essendo sviluppato la processa sempre dall'EPA loro hanno deciso di far funzionare con questi programmi con il link file quindi come voi per la rete di acquedotti avete link file ce la avete anche per la rete di acquedotti oppure ne create uno di nuovo quindi andate a scegliere dove caricarlo quindi il percorso dove mettere il vostro link file quindi il vostro progetto e scegliete un nome del progetto quindi direttamente fate qua andate a selezionare la cartella dove andrete a lavorare e create un nome e fate open dovrebbe comparirvi una nuova finestra di dialogo per vi referenziare il vostro sistema allora qui nelle slide troverete un altro sistema di riferimento il nostro è sempre lo stesso non ve l'ho scritto ve lo aggiorno direttamente nelle slide però è sempre UTS 84 barra UTM zona 32 nord che poi è anche questo è un'altra UTS 34 quindi andate a scegliere quello mettete ok devo ripetere il sistema di riferimento no quindi il vostro progetto dovrebbe essere creato come vi ho già detto prima potete creare un nuovo progetto come abbiamo già fatto quindi direttamente dalla finestra di dialogo se state lavorando con un progetto potete creare uno nuovo e lavorare in parallelo con uno nuovo aprire un progetto esistente e salvare un progetto con save o save edit come ho già detto il progetto Nipfile identico a quello di Epanet si differenzia solamente alla fine dove contiene il delta z quindi la profondità di slavo delle condotte rispetto al suolo e il materiale delle condotte quindi andate a cercare ora il vostro dpm e la vostra cpt e andate a caricarla a caricarle come voi già sapete quindi su QGIS andate a caricare i due raster a caricarla a caricarla a caricarla a caricarla non c'è c'è a caricarla e non viene niente perché è caricato il bpm e la cpt per andare direttamente a far dialogare il bpm con andate nella sezione layers a destra e l'ultimo praticamente lui associa ad ogni elemento il layer corrispondente quindi per il layer dm poi andrete a selezionare il vostro dm è tutto georeferenzato avete georeferenzato tutto perché la cpt potrebbe non essere nel sistema di riferimento di tutto quello che vi ho caricato l'ultima volta quello che vi ho caricato l'ultima volta in drive poi se voi volete andare perché in questa esercitazione voi potete scegliere l'area che volegge non necessariamente la stessa alle funiture quindi se voi volete lavorare nella zona del veneto andate nel portale nel direttore del veneto e scaricate opportunamente quello che vi interessa quindi gli date il layer per den vado a aver creato un nuovo progetto compare anche in automatico la finestra di dialogo per selezionare le azioni di analisi idraulica che altrimenti trovate anche direttamente nelle azioni a fianco vi faccio discorre un attimo di cosa si tratta in definitiva dovete mettere se lavorate litri per secondo litri per minuto litri per minuto litri per cubi all'ora litri per cubi al giorno o milioni litri per litri al giorno poi anche le perdite calcolate con o Shinsley Manning o Keynes Williams o Darcy Weibach quello che preferite basta che voi usate le unità con due di misura con due e convertite tutto e poi ci sono anche le unità di misura imperiali imperiali ecco quindi in piedi per modificarle successivamente appunto potete andare su options hybrides quindi noi adesso io vi leggo gli elementi da disegnare della rete ci metteremo qua a disegnarli poi finiamo qua questa parte di lezione gli elementi che caratterizzano quindi gli attributi che caratterizzano ogni elemento lo faremo la lezione prossima quindi come vi avevo detto caratterizzato da elementi fisici che sono quelli che voi andrete a disegnare direttamente in QGIS quindi nodi sorgenti serbatoi quindi cliccate l'opportuna icona che si trova a destra per i nuovi serbatoi o sorgenti muovere il mouse sulla mappa dove intendete mettere quell'elemento specifico e cliccare ci sono varie opzioni cioè possono essere creati anche lungo un tratto e la condotta viene direttamente spezzata nel senso che se voi avete già disegnato la vostra rete ma volete aggiungere un nodo in mezzo voi prendete e mettete quel nodo lì e la condotta si spezza direttamente in due per modifiche successive alla rete per esempio automaticamente si aggiornano quote e coordinate quindi non è come la suoma un po' più sbrigativo questa cosa e si può assegnare la profondità dei nodi rispetto alla quota del terreno pompe varvole come prima cliccate l'icona lo snap del cursore su una condotta e cliccare le giunzioni vengono automaticamente create alla fine di tagli eventi e per capovolgere il verso clic destro su pump o valvola e flip orientation se volete cambiare il verso ve lo ripeto ancora elementi ci sono le condotte come prima cliccare l'icona cliccare sulla produzione iniziale finale clic destro del mouse per concludere l'operazione come avvate fatto anche per le condotte con suoma clic 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 destro attenzione condotta da modo a modo mi raccomando non fate scherzate le scherzate no una condotta va da un nodo a un altro nodo non che ci sia un'unica scherzata che collega più nodi direttamente non è necessario che iniziano finiscono in un nodo ma nel senso che ne crea uno direttamente lui questo è il senso non che appunto di nuovo niente scherzate perché ne vedo tante più che altro lo ripeto veramente perché è un errore tipico se si connettono una condotta direttamente a un'altra le due vengono automaticamente divise la lunghezza come vi avendo viene data in 3D si possono assegnare i vertici della condotta per le configurazioni del livello del terreno e spero di aver aggiunto una cosa che non c'è potete andare comunque a dare la tolleranza dello snap nei tools di di e panetti quindi andare al tools nella creazione dei layers e sotto c'è la tolleranza dello snap in metri e poi una cosa che vedremo anche la prossima volta adesso ci mettiamo a disegnare operativamente la rete o qualche elemento della rete tanto per vedere come si fa e ci sono le curve e gli andamenti delle portate quindi operativamente andate in QGIS scegliete una zona per ora facciamo solamente le junctions e le paris ci sono ci possono essere due modi per modificare ovviamente più direttamente di layer infatti come avete fatto su swam quindi andate sulla modifica e aggiungi elemento oppure lui si modifica e inizia a modificarsi da solo se vuoi mettete create junction e lo mettete sopra una certa zona e iniziate a creare i vostri punti fate un salvo delle modifiche come sapete da fare io non le salvo mi riferisco ai modi che avevo già fatto e qui per la tabella attributi e vedete che li numera già e li assegna già alla quota del terreno poi la prossima volta andremo a modificare tutti gli altri attributi quindi fatevi un esempio di rete delle maglie e andate a disegnare per le condotte facciamo la stessa cosa quindi li mettete da nodo a nodo e clic destro nodo nodo e poi mi metto clic destro nodo nodo clic destro nodo nodo clic destro faccio un salva e vedete anche qui mi assegniamo un diametro di default dopo la prossima volta andremo a vedere tutti i tipi di diametro e magari iniziare a scegliere i vostri diametri come soluzione iniziale la lunghezza e vi da un primo coefficiente di distrappezza per l'acciaio così non dovete andare a compilare campo per campo ma avrete direttamente qui adesso l'ultima cosa dopo passiamo a a ricevimento per quanto riguarda le fognature o se avete domande anche per questa lezione esercitazione allora voi potete prendere un'area a vostra scelta non necessariamente quella che è di fognature nulla vi vieta di fare di scegliere la stessa area nulla vi vieta di scegliere un'altra di almeno un chilometro quadrato da sapere come un affidotto urbano servizionali di la domanda epica in funzione della tipologia di insediamento considerato quindi andate a vedere la dotazione epica la rete è chiusa deve comprendere almeno due sorgenti e qui specificiamo che la portata massima e lunga da un risorgente deve essere almeno minore del 70% della portata media richiesta dalla rete nel giorno di massimo consumo qui c'è un esempio di calcolo e poi fate le vostre considerazioni un serbatorio una pompa una valvola e almeno 30 nodi è una lunghezza complessiva delle condotte di almeno 10 km adesso sono numeri vabbè 30 nodi almeno sì però sono numeri in maniera tale da fare una rete di difficoltà che non parte 4 maglie in definitiva si affetta il dimensionamento di tutti gli elementi della rete e successivamente si ottimizza la soluzione in modo da ridurre i costi totali per le informazioni non fornite si faranno delle ipotesi progettuali in definitiva voi alla fine andrete a fare per ciascuna parte di esercitazione per cognatura e per acquedotti dovrete fare una presentazione di circa 10 minuti come l'hanno scorsa immagino se voi ipotizzate ho fatto delle scelte che devono essere giustificate voi potete fare delle scelte progettuali potete scegliere voi gli elementi da andare a considerare basta che siano giustificati per entrambe le esercitazioni perché gli ingegneri siete voi e voi dovete giustificare sempre il vostro lavoro e motivarlo a posto